buongiorno buongiorno posso esserle utile si c'è veramente sono venuto a pagare l'ultima rata del carrozzino passeggino mi ricordo il cognome canta la messa canta la messa ecco qua effettivamente c'è l'ultima rata di 50 euro da pagare la ringrazio e volevo sapere siete rimasti soddisfatti si diciamo di sì ecco e il bambino come sta sto bene grazie le do subito la ricetta non molto ma è venuto couldermoso nor la messa eh no